Andava spesso in quell'appartamento per coltivare la sua passione, suonare la batteria. Il primo giorno del 2016 però ha riservato a Giuseppino Bellantone, un vidello di 55 anni, una tragica morte. L'uomo è deceduto nell'incendio che si è sviluppato nel piccolo appartamento in via Fiume a Taurianova, accanto alla sua abitazione. Ieri sera, nella prima serata, è stata la moglie a lanciare l'allarme, avendo notato le fiamme che uscivano dalla casa dove il marito stava suonando fino a poco prima. I vigili del fuoco di Polistena hanno impiegato poco più di un'ora a spegnere l'incendio, trovando alla fine il corpo carbonizzato dell'uomo proprio nella stanza dove era solito suonare. Prima di morire, Bellantone avrebbe perso i sensi per via dei fumi di combustione. Sulle cause dell'incendio ancora nessuna certezza, anche se la pista più accreditata resta quella del cortocircuito. È comunque esclusa l'ipotesi di incendio doloso, anche se i vigili del fuoco procederanno oggi a una indagine più approfondita per accertare le cause della prima tragedia del 2016 sulla piana di Gioia Tauro.